Gara sfortunata a Misano Adriatico per il pilota sulmonese Cristian Micocchero che, a causa di una scivolata, non ha centrato il risultato nella quarta prova della Coppa Italia del trofeo Bridgestone classe 1000. Le premesse erano diverse per il centauro del motoclub Abruzzo che proprio sullo stesso circuito ad aprile aveva ottenuto il quarto posto. Questa volta però le cose non si erano messe bene dall'inizio a causa delle altissime temperature che avevano messo a dura prova sia l'impianto frenante sia la sospensione anteriore della sua Yamaha R1. Problemi si sono registrati inoltre per la progressiva perdita di efficienza dell'impianto frenante e per l'eccessivo affondamento dell'avantreno. Conclusse le prove con il settimo miglior tempo assoluto, Micocchero si è proposto in terza fila sulla griglia di partenza. Nonostante tutto non si è perso d'animo ed è scattato al via con la giusta determinazione. Transitando ottavo nel corso del primo giro dopo aver superato l'immolese Poggi, si è gettato subito all'inseguimento della Kawasaki di Viederre che è riuscito a sorpassare di slancio nel corso del giro successivo. Poi con un terzo giro da record in un minuto 41 secondi e 4 ha guantato la coppia composta dal Polman Alberti su Ducati e dal fuoriclasse Nuccio Zerbo su BMW dando vita ad un serratissimo duello. Nel quinto giro con un sorpasso da Cardiopalma in pieno curvone si liberava di Alberti portandosi al ridosso di Zerbo raggiunto all'inizio del sesto giro per lanciarsi all'inseguimento del gruppetto di testa. Ma la sua spettacolare rincorsa è finita con un'innocua scivolata nel ghiaione causata da una banale chiusura di sterzo. Nessuna conseguenza sia per il pilota che per la moto ma solo tanta amarezza e delusione per non aver concretizzato ancora una volta il risultato.